Nato dall'indignazione come primo punto di chi? Di un gruppo di donne e di uomini che lavorano con varie qualifiche dentro l'azienda sanitaria, indignati per il disprezzo di quello che esiste e di quello che stiamo facendo. Cioè l'attacco che viene fatto personalizzato tra l'altro con nome e cognome al direttore generale, a Rotelli, è un attacco a un simbolo generale di una storia che ha portato lentamente alla costruzione di uno dei migliori servizi territoriali d'Europa. E se da un lato si può capire che una parte politica che arriva al governo desideri appropriarsi difette importanti di potere, dall'altro direi che visto le incompetenze messe in campo e il livello delle accuse, io come triestina mi indigno anche sulla svendita che si fa dei beni che noi abbiamo. L'iscrizione al comitato è evidentemente individuale, il comitato ha un indirizzo e-mail che è codisat-trieste-gmail.com, basta inviare un messaggio chiedendo di aderire, si riceverà il documento, il testo costitutivo e i documenti del comitato a disposizione e con l'invio del numero di documento di identità si è iscritti. Vi saranno comunque dei punti di raccolta anche in città.